Milano Unica ha creato un ecosistema digitale che supporta e assiste le aziende nel loro percorso di digitalizzazione, con l'obiettivo di facilitare crescita e visibilità sul mercato globale. Un nuovo modo di creare contenuti, generare visibilità, acquisire dati e informazioni per analizzare i risultati di strategie mirate. L'ecosistema digitale propone un insieme di strumenti al servizio delle aziende del tessile abbigliamento moda. Milano Unica. La trasformazione digitale in atto.